Compagnia di Pablo Granoce, netto 5-0 contro Abel Fiorese, quest'oggi non si potreva chiedere di più. Sì, abbiamo interpretato molto bene la gara, siamo molto contenti perché venivamo da un brutto risultato a Valgattara, oggi i ragazzi erano arrabbiati per quei due punti persi, per cui siamo entrati subito con voglia di vincere, abbiamo dimostrato che vogliamo dare continuità ai risultati, oggi ci portiamo a casa una buona vittoria, è un risultato tondo. Si vedeva che i ragazzi ci tenevano, perché oltre alla cinquina, alla fine di ogni gol tutti quanti esultarono in gruppo, si vede proprio che è una squadra unita. Sì, soprattutto anche perché sappiamo l'occasione che abbiamo sprecato a Valgattara, eravamo molto arrabbiati con noi stessi per quello che è successo, per il secondo tempo che abbiamo fatto, quindi oggi la squadra era più unita che mai. Siamo molto contenti anche per Antenucci, che si è presentato subito e ha fatto gol, per cui la squadra è molto unita, ci teneva a riprendere il cammino della vittoria. Ecco, siamo molto contenti perché arriva prima di una sfida molto importante. Esatto, dicevi bene perché è giovedì big match contro l'Ambrosiana e i tre punti di oggi possono anche forse servire a mettere un po' di pepe, le inseguitrici che giocano domani. Poi è logico che giovedì ci sarà questo confronto con l'Ambrosiana, anche lì assolutamente da vincere. Sì, sarà una partita difficile con una squadra che sta facendo molto bene, è una squadra molto quadrata, con molta esperienza, per cui adesso recuperiamo le energie, vediamo un po' domani come andranno i risultati, ma ci faremo trovare pronti.